Il Museo del Calcio Terramano non si farà più allo stadio Bonolis di Piano Daccio, però il presidente del Terramocalcio Franco Iachini, che è anche il gestore dell'impianto, si è impegnato con i promotori dell'iniziativa per aiutarli a trovare un'altra collocazione per il museo. Sì, nell'incontro che abbiamo avuto, molto cordiale con il presidente Franco Iachini, abbiamo appunto presentato questo progetto, presentato anche l'idea di questo progetto che era nata in un contesto appunto di quasi abbandono di quella struttura e quindi sette mesi fa ci era sembrato opportuno rivitalizzarlo in questa maniera. Ovviamente tutti sappiamo che fortunatamente lo scenario è cambiato, è cambiato in meglio e quindi il presidente ci ha appunto manifestato la necessità in quei luoghi di realizzare appunto una sede operativa della Terramocalcio. Dove sperate di poter andare a questo punto? Beh, innanzitutto adesso dobbiamo iniziare un'opera di ricerca, un'opera di ricerca che non sarà facile. Io confido molto anche nell'appoggio delle istituzioni perché come enti patrocinanti di questo progetto ovviamente ci daranno una mano, sono estremamente convinto, come ce la darà appunto anche il presidente che si è dichiarato appunto disponibile ad assisterci in questo percorso di ricerca e non solo, anche ovviamente in fase di allestimento. L'unica cosa è che purtroppo i tempi si allungheranno perché non abbiamo purtroppo ancora il luogo quindi dovremmo poi riformulare un po' il progetto, quindi sarà un pochettino lunga la cosa ma ci tengo a dire che non lo abbandoneremo e cercheremo di sfruttare questa piccola problematica, chiamiamola così, come un'opportunità, cercando di trovare un sito altrettanto prestigioso, altrettanto diciamo fruibile da tutti. A proposito di Club Bianco Rosso, torna la cena di Natale per beneficenza? Sì, come ogni anno il nostro appuntamento è rinunciabile sotto questo aspetto, quindi la cena di beneficenza ci sarà anche quest'anno, il 21 dicembre, al ristorante Madre Natura. Sarà anche occasione, ovviamente questa cena nasce anche legata al nostro progetto Cuore Bianco Rosso che prevede l'acquisto di defibrillatori da donare al Comune di Teramo, con l'occasione doneremo al Sindaco che sarà anche presente il quarto defibrillatore, quindi è la quarta stazione che andremo a donare, quindi sarà un momento veramente tanto importante per noi, per tutti quanti e spero che nello stesso successo che abbiamo avuto lo scorso anno. Le prenotazioni vanno bene, quindi non abbiamo alcun dubbio.